bentornati in diretta con buongiorno weekend ovviamente è quel momento in cui ci prendiamo un caffè giusto il tempo di un caffè con vediamo insieme in Grazie a tutti. Tante sfumature in un'unica donna. Chiara Cavaglieri, buongiorno Chiara. Buongiorno, buongiorno a tutti. Benvenuta a Buongiorno Weekend. Benvenuta a giusto un caffè. Giusto un caffè. Ecco, però quindi abbiamo un po' di un caffè, dell'acqua, dei cornetti alla crema, al cioccolato, perché la primissima domanda che di solito faccio in questa rubrica è Buongiorno Chiara Cavaglieri, benvenuta a Buongiorno Weekend. E lei che caffè si sente? Io non bevo caffè. Ecco, allora, perfetto. Sono il disonore dei napoletani, ho origine napoletane. Ahimè, io non bevo più caffè, perché mi fa venire la tachicardia. Però non bevi più caffè, quindi l'hai bevuto. Fino al 2005-2006, ero anche una grande bevitrice di caffè. Ma è tipo, io te lo sbevo con l'ultima sigaretta, cioè ti ricordi l'ultimo caffè che hai bevuto o no? No, no, no. Però se tipo lo bevo inizio a scalare le montagne, proprio vado, già sono iperattiva. Se bevo anche il caffè la fine. È la fine, è la fine. Però riesci a ricordare e a darti un tono a livello caratteriale, psicologico, pensando ad un caffè? Che caffè saresti? Sarei forse un caffè morbido e persistente. Morbido e persistente, va bene. Ci fa capire però la consistenza di questa donna, che effettivamente è sicuramente morbida per il suo carattere. Però è persistente perché è tenace anche, no? Rimane il sapore. Esatto, esatto. Sì, è così. E invece se fosse un cornetto per banalizzare? Cornetto semplice. Il cornetto, sì. Semplice? Spoglio tranquillo. Allora, qua abbiamo la crema, il cioccolato. Mangio tutto, quindi va benissimo. Se lo vuoi puoi prenderlo, dato che non berrai il caffè. Però, insomma, è soltanto un pretesto per iniziare a conoscerci meglio. Anche perché questo è quel momento della settimana in cui ci distendiamo un attimo. E il caffè è un attimo quel pretesto, veramente, no? Per conoscere l'altra persona quando non si ha tanto tempo, con gli amici, vabbè, dai, prendiamoci un caffè. Quei pochi minuti, ma buoni, intensi. Chiara, abbiamo capito appunto che sei avvolgente, che sei morbida, che sei persistente. Perché immagino per essere una donna che lavora nel mondo dello spettacolo da tanti anni con così grande professionalità, bisogna essere persistenti per forza. Per forza, avere tanta determinazione è un grande equilibrio. Un grande equilibrio e sì, e non farsi appunto trascinare dalle varie o frustrazioni o negatività che poi il mondo del lavoro ti comporta. Invece devo dire che io sono molto serena nell'affrontare tutto. Anche grazie ad aver perso l'abitudine di bere il caffè, sicuramente. Esatto. Quello, almeno, quella dose... Bevo vino, però, mi piace tutto. Ah, vabbè, 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 è giusto. Beh, qualche cosa dovrai pur assumere, insomma, di qualcosa di più frizzantino. Hai ragione. Ecco, è una carriera impegnativa, l'abbiamo spesso detto qui in questo spazio proprio, che vuole essere una chiacchiera con delle persone che lavorano nel mondo dello spettacolo. Molto impegnativo, però ti ricordi il momento preciso in cui hai deciso di fare questo nella vita? Eh, allora, io in adolescenza ero partita che volevo fare la ballerina, quindi ho iniziato dalla danza. Poi a scuola c'era un corso di teatro, ma di quelli scolastici pomeridiani, e lì mi sono innamorata della prosa, ho detto no, io devo fare teatro. E infatti a 19 anni feci il provino per l'Accademia Silvio D'Amico qui a Roma, mi pregero e da lì è iniziato poi il tutto. Però ecco, sì, l'amore è scattato. Ho dovuto un po' rinunciare alla danza perché tutte e due insieme, sono anche due linguaggi diversi. Quindi a un certo punto ho abbandonato la danza e mi sono buttata nella recitazione, in tutto e per tutto. Però hai deciso, insomma, di fare un provino per una scuola importante. Tu appunto non venendo da Roma, non sei di Roma, hai origini napoletane. Ma poi sono cresciuta in Molise, a Campobasso, quindi una realtà molto piccola e venire a Roma era una... Però sei andata dritta nella scuola più importante, quella più forte. Sì, sì, ho detto faccio quello o no? Giusto. Ebbè, la fortuna e il talento di essere entrate, insomma, in una scuola così importante, poi ti ha permesso sicuramente di interagire con dei grandi professionisti. Sì, assolutamente. Si parla di vent'anni fa, quindi è tutto molto cambiato. È tutto molto cambiato, non c'era internet, non c'era accesso nemmeno così facilmente ai provini, alle produzioni, c'erano meno produzioni rispetto... Non c'era Netflix, non c'erano tante cose. Oddio, veramente, come siamo... Vero, vent'anni? C'era ancora il teatro visto come materia a sé. Adesso, bene o male, l'attore si intercambia nei vari linguaggi. Prima l'attore teatrale era ancora, diciamo, un'identità. Vabbè, è bello invece questa mescolanza, perché poi l'attore deve saper fare tutto, quindi... però prima di teatro ci si viveva anche, le torne, io ho iniziato a fare le prime torne, io stavo anche nove mesi fuori casa. Adesso le torne non sono più lunghe come prima, è cambiato proprio tutto, è tutto più veloce. Tutto più veloce come i social che viviamo, quindi è uno degli argomenti, delle riflessioni estremamente veloci. Ti manca un po' quel momento in cui era un po' più statico, un po' più calmo o no? Sì, mi mancano le lunghe torne, ci sono ancora, però mi manca il momento di studio. Adesso è tutto veloce sui set, anche nelle prove, nelle produzioni, cioè bisogna... si corre, si corre. E invece io cerco sempre di prendermi i miei momenti di studio, di studiare, continuo tutt'oggi a studiare, perché non bisogna mai fermarsi. E quello è il mio momento appunto per defaticare e per riviverti, altrimenti se sei sempre in corsa come fai a rinnovarti? Diventa quasi una catena di montaggio alcune volte. Si perde anche quell'umanità che invece spetterebbe e dovrebbe essere l'ingrediente principale di questa magia, che è l'essere attore. La ricerca, la ricerca artistica si dà meno importanza, per questo per me il teatro continua ad essere l'infavitale, perché è quello da cui comunque si prende tutto. Sul set ci sono poi dei set dove comunque si fai le prove, però è sempre tutto molto molto veloce. Il teatro per me è e resterà sempre il primo grande amore. Il primo grande amore? Ti capisco bene quando dici ad una scuola di recitazione ho iniziato questo... Scusa, alla scuola ho iniziato un corso di recitazione di quelli che si fanno nel pomeriggio. Ecco, è la stessa identica cosa ho provato io, quell'amore, quella luce negli occhi, dico sempre, che ti fa vivere, che ti fa essere felice di vivere quelle ore, quei momenti che non torneranno mai più e che sono preziosissimi. Infatti gli insegnanti in questo senso hanno un grandissimo ruolo. Noi sottovalutiamo sempre il ruolo della scuola come sia un momento di passaggio. No, perché si formano i giovani, si forma il futuro. E avere avuto degli insegnanti che mi hanno appassionato alle arti, alla musica, appunto, alla recitazione... Io ringrazio sempre i miei professori del liceo perché... È importantissimo. Ricordi la prima volta che hai messo piede sul palcoscenico, non da ballerina, ma da attrice? Eh, facevano questo saggio che era il rugantino. Bello, quindi comunque il destino sul Roma... Esatto, e io andavo a fare il problema per la balleria perché ancora facevo danza e invece l'insegnante mi disse, no, no, tu devi fare Rosetta. Quindi per... Bellissimo. Per me, io avevo 16 anni, ero piccina e da allora... Che poi in quel gruppo sono nati parecchi colleghi attori dal Molise, molti sono entrati anche in accademia con me, abbiamo... C'era questo piccolo gruppo di giovani che ha continuato in qualche modo, chi nell'insegnamento, chi poi nel teatro, chi ha aperto una scuola magari lì sul territorio. Come i semi poi crescono, i semi piantati bene. Esatto, esatto. Quindi sei arrivato a Roma, hai fatto la scuola, la Silvio D'Amico, e poi da lì i lunghe torne e i set. Ovviamente, hai detto giustamente, sono due linguaggi diversi. Se è vero che il teatro è il primo amore, però hai trovato anche una bella tua dimensione sui set, su rispetto a le tante proposte e i tanti lavori che hai fatto per la televisione. Quindi è comunque una dimensione che ti affascina, che ti senti, che sia tua, che ti appartiene? Assolutamente sì, io mi diverto sul set, non ho assolutamente ansia di te, cioè mi dimentico di tutto e è semplicemente un altro modo per affrontare la cosa. In teatro hai tutto lì e subito, sul set ovviamente ti devi districare per altre strade, per altri versi, però sì, io mi diverto tantissimo. E poi gli unici posti dove io non ho ansia, io sono nevrotica, dove sto serena sui set e sul palco. Riflettevo del fatto che invece spesso alcuni lo trovano come delle giornate infinite, quelle che si vive sul set e che quindi sia piuttosto noioso per l'attore. Ma siamo fortunatissimi a starci, ragazzi, ma non le facciamo proprio questi. Poi ci sono dei tempi lunghi, ma è più lungo un'operazione di un neurochirurgo autore. Quindi ridimensioniamo, è divertente. È vero ed è un privilegio essere lì effettivamente. La prima volta sul set invece te la ricordi perché è un linguaggio diverso che soprattutto quando si è giovani probabilmente è faticoso trovare la propria dimensione sul set. Ma io ho iniziato molto gradualmente, quindi forse qualche cortometraggio sicuramente, perché abbiamo iniziato tutti un po' da lì. E poi credo fu una fiction alla Rai, ma dove tipo dovevo, ero una figurazione, quindi ero l'infermiera che doveva passare. Quella cosa me la ricordo molto. Tipo aspetta adesso entro, dico la battuta, perché gli spazi sono diversi, è tutto diverso. Hai un, appunto, è tutto qui il cinema, alzi un sopracciglio e dici una cosa. In teatro invece puoi ampliare anche i gesti e tutto. Ecco, sì, quella volta lì mi ricordo che dovevo dire questa, tipo la sala operatoria è pronta e quindi ero lì proprio a studiare, aspetta adesso la dico, entro, lì c'è il fermo dove mi devo, cioè questa me la ricordo. Poi sembra tutto molto omogeneo quando guardi un film, in realtà è fatto di micro... No, tipo qui vicino con la cosa, 3.000 persone intorno, ecco, sì è totalmente... Però la richiesta è sempre dilla naturale, sì naturale, tutto intorno non è... Butta, buttala, 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 va bene, chissà dove andremo a buttare queste cose. Vabbè, però detto questo, sono tanti anni che sei a Roma, una carriera piena sempre, di alti e bassi ovviamente perché è il mondo dello spettacolo che lo impone. Chiedo sempre anche questo, come li hai affrontati nel passato, i bassi di questo altalenarsi necessario di una carriera e come li vivi adesso? Perché immagino che comunque la Chiara di appena entrata in accademia si aspettava determinate cose, ha vissuto determinate cose, la Chiara di adesso invece vive i momenti in maniera... Allora, io ho sempre lavorato, ho fatto anche altre cose, cioè mi sono sempre trovata dei piani B, insegnamento, anche nell'ambito, è insegnamento, oppure è un periodo in cui avevo la comunicazione per delle piccole società, sempre cose, insegno-dizione, insomma, delle cose parallele. Ora mi sono affiancata a dei colleghi che avevano una scuola di teatro a Fiumicino, sono entrata anche io nell'organico, si chiama Arts29, con cui stiamo producendo oltretutto questo spettacolo. Quindi in realtà non mi sono mai fermata e anche se non agli stessi livelli, non l'ho mai smesso. Cioè che vada a insegnare o teatro a degli amatori, oppure a dei professionisti, recitazione, cioè a dei professionisti e degli amatori, non mi sono mai fermata. Quindi è questo e a me non interessa il livello con cui fare le cose, basta che lo faccio. Nel senso che da tempo ho iniziato un'esperienza di teatro e carcere con la compagnia Fortapascio Cinema Teatro, quindi sono entrata nelle carceri, ancora prima ho insegnato a dei ragazzi con disabilità, ancora prima per i migranti, quindi per me il teatro è una cosa universale e tutti ne dovrebbero usufruire. Adesso invece mi sono interessata al teatro come linguaggio per la scuola, proprio per avvicinare i ragazzi non solo nelle lezioni frontali, ma aiutare proprio gli insegnanti a coadiuvare una lezione con un linguaggio teatrale. Rispetto al teatro alle carceri, sei di recente proprio stata in scena al teatro Vascello, con questo spettacolo meraviglioso. Sì, Destinazione non umana di Valentina Esposito, della compagnia Fortapascio Cinema Teatro, che ho incontrato nel 2018 e lì è stato amore a prima vista ed è una famiglia, è una compagnia, è una famiglia. È formata da attori, attori professionisti, attori professionisti ex detenuti o detenuti in misura alternativa e si ha una condivisione di materiale umano lì viva. Gli spettacoli sono in divenire, la drammaturga, il regista e direttrice appunto Valentina Esposito scrive grazie alle nostre esperienze di tutti. e quindi gli spettacoli si creano appunto in divenire e io la forza che sento in questi spettacoli e in scena con questi miei colleghi è potentissima e non credo di averla mai provata. Infatti penso che è una famiglia, quindi a vita ci staremo. È molto molto bello perché appunto permette di utilizzare il linguaggio puro del teatro, quella dell'emozione, senza artifici di insegnamenti. È molto sulla verità, è sulla propria esperienza che poi diventa non tua esperienza ma diventa universale perché è questo che fa il teatro. Trasforma l'esperienza di uno in un linguaggio universale che poi viene recepito da tutti e quindi la mia storia diventa la tua. Dal teatro India al teatro Sofia, in poche settimane cambiano radicalmente anche i linguaggi e gli impegni con Le figlie del re di Flavia Gallo che è anche regista insieme a te di questo meraviglioso spettacolo che ti vede tra le protagoniste perché c'è anche Giovanna Cappuccio e Giorgia Serrao. Le figlie del re mi viene da canticchiare ma quante belle figlie, però in realtà vuole dire qualcos'altro. Che cosa ci dobbiamo aspettare dalle figlie del re? Allora, la drammaturga Flavia Gallo ha riscritto non il re Lyr di Shakespeare come si può pensare ma ha preso la matrice originaria da cui anche Shakespeare ha attinto che sarebbe l'antica leggenda di Cordelia e Lyr dove questa figlia Cordelia va a salvare il padre uno dalle grinfie delle sorelle più grandi e due lo perdona per quello che è in vita perché è stato un padre abbastanza ingombrante. Anche qui è una riscrittura, la tematica è questa, un padre egoico, egoista, narcisista, le tre figlie, Goneril, Regan e Cordelia, ai giorni d'oggi e il padre chiede quest'ennesima prova d'amore alle figlie e le convoca perché in base alla risposta che le figlie daranno lui deciderà come spartire l'eredità. Si capisce questa figura del padre come ha influito in tre modi diversi su queste tre figlie quindi ognuna ha maturato diversamente, scusate C'è l'acqua apposta, non è il caffè però l'acqua ce l'è Ha maturato diversamente diciamo questa figura del padre i temi sono tanti, la violazione del codice dell'amore che un padre fa a una figlia appunto che chiede una prova d'amore non si fa e l'invecchiamento senza saggezza perché questo padre sta invecchiando senza saggezza e poi la questione dei rapporti familiari che viviamo tutt'oggi ogni volta che appunto un genitore c'è la dipartita come ci rapportiamo noi? Riusciamo a perdonarlo per alcune cose? Riusciamo a riavvicinarci? È giusto che una figlia debba fare questa cosa nonostante abbia ricevuto non tutto l'amore? Certo, beh sono temi straordinariamente attuali e anche personali perché comunque appunto ognuno poi vive quella quell'emozione, l'interrogativo in maniera completamente diversa quindi è bello anche e affascinante immagino il processo creativo che c'è dietro questo spettacolo perché Flavia Gallo che tra l'altro conosco e saluto è una drammaturga che fa continua ricerca quel famoso studio che dice che continua a non smettere mai di studiare Flavia è una drammaturga meravigliosa, la conosco da più di 15 anni e collaboriamo spesso insieme siamo proprio ormai amiche, abbiamo un'affinità elettiva tanto che facciamo regia insieme è difficile fare regia insieme invece lei proprio andiamo proprio parallele perché dove manca una compensa l'altra, ci confrontiamo ed è un momento di studio bellissimo in questo caso abbiamo un po' corso rispetto, volevamo prenderci più tempo ma ahimè abbiamo tutte famiglie, alcune sono mamme è una produzione appunto fatta dalle nostre associazioni Arts29 Humanitas Mundi Teatro e quindi ci siamo un po' messe in gioco, abbiamo detto vai, vediamo come va però in poco tempo, meno di un mese abbiamo tirato su questa cosa che al momento è un primo studio, vediamo se poi lei sta scrivendo anche un secondo atto e beh immagino, scrive in continuazione quindi è meraviglioso ha avuto anche un premio, una menzione negli Eolo Awards 2024 proprio due giorni fa, Flavia Gallo per uno spettacolo per ragazzi chiamato Verso B, che è una riscrittura della Bibbia sono due anni che va in Biennale a Venezia come autrice emergente insomma è una grande drammaturga, è una grande donna appunto hai detto alcune sono mamme e la puntata mi piacerebbe concluderla così perché è iniziata effettivamente con questa riflessione essere sentirsi madre nel 2024 tu sei una grande professionista, anche mamma ne abbiamo parlato, una donna su cinque deve lasciare il suo lavoro per poter essere madri come l'hai vissuta tu questo momento? allora una grande organizzazione con mio marito perché altrimenti noi non abbiamo nonni quindi è veramente complicato io come partita IVA non ho avuto diritto tipo a maternità quindi è difficile fare la mamma e anche l'attrice o qualsiasi altro lavoro non è, non è incentivano tanto la famiglia ma in realtà gli aiuti non ci sono quindi è inutile che ci stiamo a girare intorno è molto difficile devo dire che io senza mio marito non ci riuscirei c'è una grande complicità io sono stata quasi tutto il mese di aprile in scena e c'è lui con la bambina giustamente a fare il padre però c'è lui però è giusto appunto abbiamo un attimo sacrificato ecco il rapporto di coppia sì perché facciamo mio marito mi manda non so se vi ricordate Lady Hawk sì il film che mi manda le fotografie di Lady Hawk perché praticamente ci incontriamo tipo al bagliore della giornata lui si alza per andare a lavorare lui fa l'impiegato e io invece mi metto a dormire perché magari torno a parte però c'è un incastro perfetto quindi a questo momento quindi è molto faticoso ma si fa però appunto a maggior ragione a livello sociale e politico avremo bisogno di più assolutamente aiuti perché la forza ce l'abbiamo però non possiamo fare da sole assolutamente abbiamo bisogno di tanto aiuto Chiara io ti ringrazio davvero per il tuo tempo per questo tempo di giusto un caffè che non hai bevuto però abbiamo capito che comunque molto di te grazie a questa chiacchierata e ricordo a tutti i telespettatori di Buongiorno Weekend a Roma al Teatro Sofia tra l'altro un meraviglioso teatro una bomboniera esatto ringrazio Guido Lomoro e soprattutto fa una cosa bellissima a parte che è un figlio questo teatro perché è tanto carino fa l'aperitivo infatti che è una cosa meravigliosa è come il terzo tempo del rugby cioè ci si vede tutti quindi al termine dello spettacolo si può interagire con gli attori ed è un momento di condivisione bellissimo perché poi è quello che il teatro fa è condividere quindi le figlie del re dall'antica leggenda di Liera e Cordelia di Flavia Gallo regia di Flavia Gallo e Chiara Cavalieri con Giovanna Capuccio Chiara Cavalieri e Giorgia Serrao ringrazio anche Andrea Cavazzini in ufficio stampa e insomma fino al 12 maggio al Teatro Sofia a Roma grazie ancora Chiara e in bocca al lupo per tutta la tua carriera grazie grazie anche a voi che avete seguito Buongiorno Weekend grazie a tutta la squadra di Buongiorno Weekend a Lorenzo Ivano e voi che scrivete al 342 627 5717 io vi ringrazio e ovviamente vi do l'appuntamento a domani perché Buongiorno Weekend ritorna puntualissime alle ore 9 ciao buon sabato a buongiorno buongiorno a buongiorno Grazie.